Music Control La giornata di ieri, sperimentare nuove modalità di aggregazione e sviluppare idee creative. Il progetto, come spiegato durante la conferenza stampa, prevede la gestione degli spazi destinati a laboratori didattici, laboratori polifunzionali, sala registrazione e sala regia. Scappes Teatro prevede anche una serie di attività ed eventi che coinvolgeranno lo spazio del Teatro Lembo, come per esempio proprio il progetto Music Control. Un progetto nel progetto, insomma, al via il 16-17 dicembre, nato in collaborazione con la Cittadella degli Artisti, Teatri di Bari, Teatro Chismet, Area Metropolitana e i comuni di Canosa e Molfetta, oltre all'associazione Microsolco. Music Control è un format dedicato alle band emergenti. Sei band selezionate avranno infatti la possibilità di lavorare in residenza artistica con sei tutor, professionisti del settore come Omar Pedrini, Paolo Benvengu, Populus, Roberto Dell'Era e Gianluca De Ruberti, Santonio Di Martino, Cesco degli Aprela Class. Ad ospitarli da gennaio ad aprile 2018 i due laboratori urbani, proprio quello di Canosa e quello di Molfetta. Inaugurazione prevista, come detto, per sabato 16 dicembre con l'annuncio degli artisti o delle band che hanno superato la selezione durante la serata. Evento al Teatro Comunale Raffaele Lembo di Canosa si insibiranno in concerto Emanuele Ecolandrea con Giorgio Consoli, Erika Trivelloni e Isabella Benone, oltre ad Enriquez e Finaz della Banda Bardò e Mauro Ermanno Giovanardi. Durante la conferenza a stampa, alla presenza di Augusto Masiello, presidente di Teatri di Bari, Mara Gerardi, assessore alla cultura del comune di Canosa, Roberto Morra, sindaco di Canosa e Marco Ranieri delle politiche giovanili della regione Puglia, è stata presentata anche una rassegna teatrale con la direzione artistica di Vito Signorile e che prevede tre cartelloni, uno di prosa con la nuova produzione di Teatri di Bari Anfitione per la regia di Teresa Ludovico, assieme ad altri spettacoli con nomi importanti come Gianrico Carofiglio, Antonio Stornaiole e Vito Signorile. Altri titoli, infine, saranno dedicate alle famiglie con un programma che si svolgerà nelle domeniche pomeriggio.